La follia che cambia la vita ma è anche antidoto dalle delusioni della vita stessa. La follia si insinua nella mente di Enrico IV, il personaggio eroico sfoderato dalla penna pirandegliana che ieri sera al Teatro Vittorio Emanuele è stato interpretato e diretto superbamente da Franco Branciaroli. È la vicenda di un nobile del primo novecento che partecipa ad una cavalcata in costume nei panni di Enrico IV e c'è una storia d'amore di mezzo, quella con Matilde Spina per cui Enrico IV freme ma contesa da Belcredi. Enrico IV viene disarcionato dal suo rivale fino a cadere e battere la testa e si trasforma realmente nel personaggio storico. Ad assecondare la follia saranno i servitori. Solo più tardi nella drammaturgia il protagonista Enrico IV guarisce e si accorge che il Belcredi gli ha giocato un brutto scherzo ma vorrà mantenere e cucirsi la sua maschera addosso che è anche più comoda per respingere la verità crudele. Protagonista e regista Branciaroli si rivela intenso insieme alla produzione CTB Teatro Stabile di Brescia Teatro degli Incambinati. Brillanti anche le interpretazioni di Giorgio Lanza che ricopre il ruolo del barone Tito Belcredi di Viola Pornaro che è la Marchesa Matilde Spina di Valentina Violo che è Frida figlia della Marchesa Tommaso Cardarelli che è il nipote di Enrico IV, il Marchese Carlo Di Nolli e Antonio Zanoletti che è il dottor Dionisio Genoni a curare le scene, i costumi e Margherita Palli, le luci, Gigi Saccomandi. Le repliche si terranno fino al 25 ottobre. Pochi gli spettatori di ieri sera e mancano ancora le poltrone in platea. Almeno l'ente ha completato la quarta fila in due settori e la quinta in un altro settore.